Signore, Padre Santo, benedici questo meraviglioso specchio d'acqua che riflette la Tua bellezza e che Tu hai affidato alle nostre mani, alle nostre cure, perché sia anche sostentamento per la nostra vita e per le nostre famiglie. Signore, rendici sempre degni di sapere apprezzare le bellezze del Tuo creato, per Cristo nostro Signore. Diciamo un Ave Maria, conclusione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave. E buon proseguimento della giornata. attenzione. Io penso a quanto godranno e si diverteranno le adi astando liаютi. Eh? Sei indignato. Grazie.